Rivoluzione astrale in quattro atti di Maurilio Di Stefano. Il giovane si ritrovò al villaggio d'improvviso, senza memoria, memoria, di come ci fosse arrivato, nello stomaco caldo e soleggiato di un pomeriggio d'estate. Aveva visitato molti villaggi, spostandosi lungo e largo all'interno del paese, e questo non era certo di simile dagli altri. Il giovane poteva avere 25 anni, 27 anni, non di più. Lo si intuiva dalla barba, dal portamento, dal grado di certezza e incertezza dei gesti. Aveva visitato molti altri villaggi prima di quello, per via del suo mestiere, e di nessuno conservava memoria, memoria alcuna. Ma questo non lo preoccupava, gli accadeva di continuo, dimenticare. La perfezione è possibile ed è il presente. Grazie a tutti.